Il Covid-19, come ben sappiamo, ha fermato gran parte delle realtà sportive provinciali e regionali. Una delle discipline maggiormente colpite è il volley. In B, a Tripaldia e Avellino hanno lasciato il campionato anzitempo. Ora, quello che preoccupa tutti, soprattutto le piccole realtà, è il futuro. È un nuovo inizio delle attività, un nuovo inizio ricco di incertezze. Il volley, infatti, deve fare i conti con il problema delle palestre. L'indisponibilità degli impianti, infatti, rischia di paralizzare l'intera attività locale, non solo, soprattutto, se verrà dato seguito alla richiesta del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, di utilizzare le palestre scolastiche per la ripresa delle lezioni. E senza le scuole su cui si appoggia buona parte delle squadre irpine per allenamenti e partite, tornare a giocare diventerebbe impossibile. Guido Pasciari, commissario straordinario della FIPA per Campania, lancia l'allarme. Senza palestre scolastiche muore l'85% del mondo dello sport. Non è più tempo di richieste ad personam. Beviamo un momento straordinario e, come tale, va affrontato con un tavolo nazionale. Se non c'è un input di questo tipo, non si potrà fare nulla, se non aspettare la volontà delle singole istituzioni scolastiche. A Vellino e l'Irpinia tremano. Ci sono, infatti, diverse società e ne citiamo soltanto alcune che effettuano allenamenti e gare nelle palestre scolastiche. In primis, l'Olimpica di Coach Amodeo, che gioca i suoi match nel plesso scolastico dell'Ipia Matucci di Via Colombo. La Miss Volley Avellino delle Coach Rita Quino, Cristina De Bonis, ospite della palestra della Scuola Marone. La Westica di Coach Lucia Annuzzi, che usufruisce della palestra del Convinto Nazionale. E la Mercogliano Volley, che gioca le sue gare alla Scuola Media di Mercogliano Guido Dorso. Insomma, un futuro ricco di preoccupazioni. E se le scuole non riaprissero in tempo, c'è il rischio di perdere tutte le attività.